Ciao ragazze e benvenute su Mondo Cosmetic Oggi nuovo video dedicato ad Yves Rocher Allora, sapete che io sono capogruppo dell'Yves Rocher Per cui se vi va, sapete come trovarmi Se vi va di iniziare questo percorso con Yves Rocher Sarò felice di aiutarvi Allora, facciamo subito in fretta Perché altrimenti diventa un video lunghissimo Oggi mi andava di presentarvi il favoloso album numero 4 Pieno, pieno, pieno zeppo di offerte e di novità soprattutto Allora, partiamo subito Vedete tutti questi fogliettini così mi sono messi agli appunti Perché non mi va di fare un video lunghissimo Vi voglio dire ovviamente i punti più importanti dell'album Iniziamo dalla validità dell'album È iniziato il 16 marzo Tutto dedicato alla cura dei nostri capelli Termina il 5 aprile Che è la data in cui termina anche l'offerta benvenuto Eccola qui Se non avete visto il video sull'offerta benvenuto Trovate ovviamente il link da qualche parte Ok, allora iniziamo subito Apriamo subito il nostro album e troviamo appunto tutti i trattamenti per la cura dei nostri capelli In particolare questo mese Cioè su quest'album abbiamo l'offerta shampoo e balsamo a 5,95€ Eccola qui Ovviamente vengono fatte delle proposte aziendali Cioè nel senso che l'azienda ci propone l'abbinamento di un balsamo con uno shampoo Però siamo assolutamente liberi di scegliere lo shampoo e balsamo che più ci piace L'unica cosa di cui dobbiamo fare attenzione quando scegliamo i nostri prodotti E vogliamo soffrire appunto dello sconto di 5,95€ Dobbiamo fare attenzione a prendere il codice in nero E associato al codice in nero il codice in rosso del balsamo che preferiamo prendere Per cui facciamo che scegliamo il prodotto nutri-riparatore Metteremo il codice in nero E poi magari vogliamo prendere il balsamo protezione e luminosità Prenderemo il codice in rosso Ovviamente ci sono tutte le pagine dedicate alle varie proposte Vi ricordo anche che c'è la possibilità di acquistare lo shampoo Questo qui che è uno shampoo fantastico non solo per la qualità e lo shampoo lucentezza Ma anche perché acquistando uno di questi shampoo avremo un albero piantato Sapete quanto il Brochet attenta a tutte le iniziative Per la cura del pianeta Per preservare il nostro pianeta Quindi sempre attentissimo Poi novità meravigliosa E' una chicca perché siamo pochissime aziende da avere questo prodotto Ma soprattutto la qualità del nostro prodotto Eccola qui La polvere esfoliante 100% vegetale Allora Questa che cos'è? Me ne parlo in breve Però poi facciamo un video dedicato E' una polvere esfoliante che va unita al nostro gel detergente preferito Ovviamente noi proponiamo sebo Sebo vegetal Oppure idra vegetal Ed è una polvere che si unisce con il nostro detergente Per avere un'esfoliazione che desideriamo Quindi andiamo ad esfoliare il nostro viso In maniera più delicata In maniera un po' più profonda In base alla quantità di polvere esfoliante Che andiamo a miscelare E' un prodotto fantastico Poi ve ne parlo nello specifico Perché i suoi ingredienti sono eccezionali C'è un tutorial sia nel canale della Yves Rocher Italia Che nel Anche lo trovate anche nella mia pagina Su Facebook Un tutorial dove vi fa vedere proprio esattamente come si utilizza Poi comunque ve lo faccio anche io E qui viene proposto Il suo prezzo è di 9,95€ Viene proposto a 9,95€ Come prezzo di lancio E viene dato anche in super offerta Abbinato appunto al gel detergente Che si è scelto E a prezzo di 12,95€ Poi andiamo avanti Eccolo qui Vi volevo far vedere ovviamente tutti i trattamenti anti età Sappiamo benissimo tutti l'importanza della cura della nostra pelle Ma qui in particolare ci viene proposto questo set della linea Elixir 7.9 Questo qui è un set fantastico Viene proposto a 37,95€ Perché all'interno contiene Non solo il trattamento Riattivatore di Vabbè diciamo il trattamento proprio vero e proprio Quindi in crema In questo caso il trattamento riattivatore di giovinezza Pelli da normale ammiste Perché questo è un set studiato per le pelli da normale ammiste Ma soprattutto viene proposto il siero anti inquinamento Io manco un po' da youtube Per cui diciamo che non ho avuto modo di presentarvi tutte le mega novità di quest'anno Però mi rifarò Quindi il siero anti inquinamento è una chicca veramente della Yves Rochelle È un prodotto eccezionale, fantastico Per cui insomma lo vedremo insieme più nel dettaglio Perdonate la voce ma sono molto raffreddata Quindi insomma io consiglio a tutte le persone che hanno bisogno Diciamo di andare a trattare questo tipo di pelle Di prenderlo Poi ho messo il segnetto Non perché insomma ci sia un'offerta diversa Cioè nel senso che è l'offerta sul prodotto insieme Però non è Non è intendo dire che abbinata a un altro prodotto Ma ci tenevo a farvela vedere Perché appunto non essendo su youtube da un po' Non vi avevo presentato il nuovo formato Del nostro amatissimo bifasico E adesso c'è anche nel formato più piccino Per cui insomma ve lo volevo far vedere Poi andiamo avanti Tutti i prodotti, seppellatura per il papà eccetera eccetera Per il papà, degli uomini Allora poi questo ci tenevo a farvelo vedere Assolutamente perché è importantissimo Quindi vi invito soprattutto a farlo Allora io leggo perché non voglio sbagliare Non mi va di sbagliare qualcosa appunto Per cui preferisco leggerlo Sapete che c'è stato il concorso della Yves Rocher Che bisognava votare il progetto più Diciamo innovativo E ecosostenibile Che si è concluso un po' di tempo fa La vincitrice del concorso che si chiamava Io perdonate la pronuncia ma Tell the Femme E ovviamente Danila De Donno Quindi ha vinto una italiana Premio 2016-2017 Ha vinto lei E in questo momento è attivo Un altro tipo di concorso Che è possibile votare Era possibile dall'8 marzo fino al 24 marzo Votare ulteriormente Per i progetti che sono presenti all'interno Insomma Di quando andate a cliccare sul link Per aiutare ulteriormente Questo progetto ad andare avanti Quindi tramite i nostri voti Chi vince Ovviamente chi ha più voti Avrà un ulteriore 5.000 euro Da poter usufruire appunto Nel nostro caso specifico Questo va a un orfanotrofio E vi leggo esattamente Un orfanotrofio in Tanzania Il fine del progetto È quello di rendere Questo orfanotrofio Un villaggio ecosostenibile E autosufficiente Dal punto di vista finanziario Ed energetico Il che è veramente importantissimo Vi invito ad andare a vedere Almeno il progetto E ad andare a vedere Effettivamente di cosa si tratta Quindi nel caso Vi metto il link Nell'info box Cliccate E se vi va Votate In modo da aiutare Anche Nel nostro piccolo Poi Andiamo avanti Trattamento Per la cura Delle nostre mani In offerta In questo album Troviamo Il L'SOS Mani pulite E la crema idratante A lunga durata Sapete bene Che Hanno cambiato Il vestitino La profumazione Sono cambiate un po' Le nostre creme mani Che sono sempre state amate Sono state ovviamente Migliorate Negli ingredienti Per cui Secondo me È un prodotto Fantastico E soprattutto L'SOS Mani È uno dei prodotti Che io non faccio mai mancare Ce l'ho sempre in borsa Anche quando sono fuori Con la piccola Per me È fondamentale Poi andiamo avanti Eccoli qua Questi sono usciti Da pochissimo Però io appunto Non me li avevo ancora Fatti vedere Ed è la nuova linea Anticellulite Della Yves Rocher Si compone Di tre prodotti Poi ne parliamo Nello specifico Ve li volevo far vedere Appunto Sono in offerta In album Singolarmente E sono dei prodotti Eccezionali Sono Veramente Nuovissimi Per quanto riguarda È proprio un nuovo lancio Di La Yves Rocher Poi Questo so che mi piace Questo so che mi piace Allora Trattamento E trattamento Offerta Makeup Allora L'azienda Ci propone Per un acquisto Di 25 euro Di appunto Di prodotti Makeup Che vanno Suggerisce anche le pagine Da 95 a 124 Ovviamente esclusi Gli accessori Che sono presenti A pagina 104 Il regalo Un kit Di Un set Di pennelli E io Ve li faccio vedere E li ho tenuti Chiusi Ancora Perché ve li volevo far vedere Quindi vi arriva Questa È Secondo me Deliziosa Allora Vi arriva praticamente In questa pochettina Con la zip Ve la apro E vi arriva proprio così Poi ovviamente Voi li togliete Io l'ho proprio Trontata Ma se che ve la volevo far vedere Quindi Li togliete ovviamente Dalla bustina E li andate a mettere Negli appositi Spazi Inserbati Allora Cosa contiene All'interno Questa pochettina Che i pennelli sono Allora Sono due È un pennello Con doppio applicatore Aspettate che così Non vedete niente Quindi ve li faccio vedere Allora Pennello Con il doppio applicatore Faccio così Per la luce Sperando si da qualcosa So qua Poi abbiamo Un pennello Da un lato Eyeliner Dall'altro Per sfumare Poi abbiamo Il pennellino Il pettinino Con la spazzolina Insomma Per le sopracciglia E poi abbiamo Il pennellino Per le pulveri Quindi Per l'acquisto Di 25 euro Di prodotti In make up Vi arriva Questa deliziosa Pochette In omaggio Quindi Fate presto Poi Andiamo avanti Io vi sto passando Ovviamente Tutti i prodotti Quindi sapete bene Che ci sono comunque La linea Le plaisir Ci sono tutti I trattamenti Corpo E quant'altro Poi Anche qui Ho messo il segnetto Perché non avevo Ancora avuto modo Ovviamente Di farvi vedere I nuovi gloss nutrienti Sono Fantastici Perché hanno Una formulazione Poi ne parliamo Con un video dedicato Una formulazione Che non appiccica Non dà fastidio Non è pesante Quindi Vanno veramente A nutrire le labbra Quindi in realtà Sono un balsamo labbra A effetto gloss Poi Sono in offerta 9,95 euro E poi Mega Fantastica Novità Dell'album M4 Sono tornati Tutti nuovi Quindi assolutamente Nuovi I matitoni Jambo Allora Chi è una cliente Storica Della Ingrosce Conosceva già I matitoni Jambo Ed era innamorata Infatti Quando sono Stati per un pochino Esauriti C'è stato un po' Di caos Però noi Sapevamo bene Che sarebbero usciti I nuovi Ed eccoli qua Infatti Allora Praticamente Sono Una matita Che può essere Utilizzata Sia come liner Che come ombretto Sono molto sfumabili Durano parecchio Sono molto pigmentati Sono fantastici Poi ve ne parlo Nello specifico Anche di questo E proprio Come offerta Novità E anche questi Concorrono A raggiungere I 25 euro Per la pochettina E se andate Sul mio Profilo facebook O meglio Sulla mia pagina Facebook Dedicata ai brosce Troverete anche Delle offerte Studiate Con dei suggerimenti Di acquisto Molto carine E 2 12 euro E 95 Quindi sono In mega lancio Ragazzi Allora Questo è un album Secondo me E fantastico Veramente pieno Pieno di Diciamo Di Di offerte Vi metto anche Il link ovviamente Dell'album È un link Ovviamente L'album online Sapete bene Che da un po' È cambiato Quindi è interattivo Molto carino Potete già cliccare All'interno Dell'album Interattivo Per vedere Alcune schede Prodotto Ragazzi Niente Se vi va Dateci un'occhiata E Se avete già La vostra Consigliera Di fiducia Rivolgetevi a lei Se volete Acquistare Con lo sconto Del 15% E quindi Attivare Il vostro Codice cliente Ci sono io Che penso A questo Vi fa piacere Se vi rivolgete A me E Se avete domande Sapete Potete lasciarmi Un commento Sapete come Contattarmi Io sono sempre Felicissima Di potervi aiutare Vi mando un bacio Vi aspetto I prossimi video Ciao Ciao